25 chili di pesce congelato scaduto ed altri 5 di alimenti non tracciati e dunque di provenienza incerta. Questo quanto trovato dagli agenti della Polizia Municipale di Arezzo in un negozio etnico di Saione. E ne guai è così finita una donna di origini africane che gestisce il negozio. L'attività è stata infatti passata ai raggi X dai vigili nel corso della consueta attività di controllo in zona Saione. All'interno sono stati così trovati i 25 chili di pesce congelato posto in vendita nonostante la scadenza riportasse la data del 18 febbraio 2020 ed altri 5 chili di generi alimentari non tracciati. Inoltre all'interno del locale, così come pure davanti alla sua vetrina, erano presenti numerose persone che stazionavano senza compiere acquisti. Gli agenti hanno sequestrato tutti i prodotti alimentari per procedere alla loro immediata distruzione, inevitabile anche il verbale per la relativa violazione amministrativa. Contemporaneamente è stato contestato il mancato rispetto della normativa anti-covid con la successiva trasmissione degli atti in prefettura per eventuali provvedimenti sospensivi dell'attività. Grazie.